Questa sera passaggio del collare tra te e Domenico Gangale, un nuovo ruolo per te importante? Importantissimo, ho deciso di accettare questo ruolo poiché è molto importante sia per me che anche e soprattutto per il mio club. Questa sera ci saranno come relatori Massimo Sdanganelli e Sabrina Gentile. Sono certa che Massimo sarà così saustivo da spiegarci il ruolo dei giovani soprattutto nella vita professionale e nella vita di tutti i giorni. Hai detto una cosa importante anche perché si parla sempre di passaggio di testimoni tra una generazione e l'altra. È arrivato il momento di dare spazio ai giovani ma di renderli consapevoli del loro ruolo. Esattamente, questa è una cosa molto importante perché rende i giovani più responsabili anche perché comunque i giovani nel 2022 non sanno effettivamente cosa sono e cosa ne sarà soprattutto nel loro futuro. Dunque è molto importante che ci siano degli specialisti che spieghino ai giovani cosa devono fare e cosa sia meglio per loro. Domenico, oggi il passaggio del collare tra te e Angela Mannarino per IRD. Sì, oggi avviene questo passaggio di collare tra me e Angela, è un evento molto importante, il secondo congresso del nostro distretto. Ormai il nostro distretto è nato da poco perché prima era un distretto unico tra Calabria e Campania, il distretto 1100. Adesso si chiama distretto 1102, noi lo facciamo per i giovani, per amministrare l'ordine fra i giovani e vederli fare delle cose migliori per il nostro territorio. Ne abbiamo bisogno, noi giovani siamo pieni di capacità, abbiamo il coraggio, abbiamo l'energia per farlo, dobbiamo migliorare noi stessi e il nostro territorio.